buongiorno a tutti Manuel il tuo cb non me ne volere a male ma c'erano andati dentro con la moto zappa non so se si arriverà a vedere dal filmato in questo punto qui ci sono delle laude sfiammatine usciva 3 watt e mezzo non dichiarava neanche il targa ed effettivamente una M faceva pena ora la situazione è un po' diversa aspetta un attimo eccoci qua non riuscivo a beccare il wattmetro ora sono 6 watt e muti aspetta vediamo se riesco a fartelo vedere un po' meglio 6 watt muti e anche 15 modulati comunque sul chiacchierofono sono sempre più di 10 watt modulati modulati eccolo qui il tuo cb piccolino tutto è rimesso a nuovo ora è tutto positivo positivo spero che ti piaccia c'è un draggio in frequenza quasi impeccabile ma è normale perché ancora non è in temperatura di esorcizio eccolo qui il tuo cb piccolino piccolino spero che adesso esci un attimino più sorio Emanuel eccolo qui Emanuel pomeriggio e lui è l'aeroporto a Simona e ora vedo se posso allungarti anche i fili di alimentazione K tutto qui signori per oggi nulla di più K K e bologna 0 e bologna Per oggi